Il tuo maestro dice che devi continuare gli studi, gli starai bene, imparerai buono l'italiano e ti farei uomo. Un film che abbraccia 40 anni di storia italiana e siciliana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro, attraverso la storia di Francesco, un uomo onesto, amante della vita, dei diritti e dei doveri, che racconta la propria vita scrivendo lunghe lettere al padre, partito per l'America quando lui era bambino. E i racconti della domenica, il nuovo film diretto da Giovanni Virgilio. Dalla giovinezza durante la guerra alla candidatura a sindaco del proprio paese, la vita di Francesco è uno spaccato della storia d'Italia e della Sicilia. La storia di un uomo che è cresciuto senza un padre e diventato il padre di tutti i suoi cittadini. Il film arriva nelle sale dopo quattro anni di lavoro. Le riprese si sono tenute in una prima fase in Calabria, a Serra San Bruno, in una seconda fase in Sicilia, esattamente a Castiglione di Sicilia e nel Catanese. Il racconti della domenica è prodotto da Movicide Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno della Sicilia Film Commission. Protagonisti Alessio Vassallo, Stella Egitto, Paolo Briguglia, Nino Frassica, Emanuele Aita e Vincent Riotta. È stata veramente una grande impresa, ci vuole un grande amore per finire un film dopo quattro anni. È veramente un grande amore, una grande passione, perché siamo caduti tante volte e siamo caduti anche per la nostra terra, perché veramente quando uno racconta storie nostre e le racconta in modo diverso ci tiene veramente a quello che è la nostra Sicilia. Io infatti non dico ai siciliani di andare a vedere tanto la mia storia, ma andare a vedere i sacrifici di tutti noi che abbiamo voluto finire questo film per dare un volto alla Sicilia diverso, perché veramente non c'è mafia, non c'è la pistola fumante, non c'è nulla. C'è un bel racconto epico della nostra terra nuovo. Caro adorato figlio, se mi vuoi scrivere, fallo di domenica, perché è di domenica che mi penserai.